Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vi mostro oggi è una riproduzione della maglia dei Chicago Bulls per la stagione 1997-98, ovviamente di Michael Jordan. Questo è un pezzo immancabile, si amate il basket, la maglia del giocatore che ha segnato un'epoca e la storia di questo sport. La maglia Bulls 1997-98, personalizzata con numero 23 e ovviamente il nome di Michael Jordan, è bianca, con rifiniture rosse e nere. È realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia, con una vestibilità comoda che sta benissimo ai fan. Stampa del nome della squadra e numero 23 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Una targhetta commemorativa è presente nella parte bassa a sinistra della maglia. Questo è un pezzo immancabile, che ha fatto la storia del basket di uno dei giocatori, anzi del giocatore più forte del basket che sia mai esistito. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piaceva di più la vestibilità, mi piace di più la vestibilità delle divise nuove, ma questo è un pezzo che non può mancare nell'armadio di uno, di una persona che ama il basket. Qui sopra vedete il costo, che per una maglia fatta così bene, devo dire che è veramente molto molto vantaggioso. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere quali fantastiche offerte vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.